... Jenny, vieni un altro po' della costa. L'alice l'hai presa? Mmh. Assaggia storate. Come? Buono. Come faccio l'orata di Napa, manca Salvador Amaro. Tu lo sai dove ho imparato a cucinare il pesce? La sai stasera? La so. In carcere. Nel settanta. Vado a far arrestare la prima volta. Sti stronzi. Spaccia di droga. Io. Ma che dovevo spacciare? Nel settanta io c'avevo sensazione d'amore al primo posto. Facevo soldi a tonnellate con quel pezzo. Comunque il carcere è una merda. Io soltanto una cosa ho imparato là dentro. E c'è sempre qualcuno che cucina il pesce meglio di te. In carcere non ci sta un cazzo da fare. E se uno si applica diventa un'upadadena a cucinare il pesce. Ma come ci è capitato questa spina? Senti Donimo. Tu il palio non lo fai mai. Ho perso un fratello per un pubblico. E questa non la racconti mai? No. Che ci vuoi fare? C'è liberato? Ho una cosa per te. Che cosa? Una cosa piccola. Una festa di piazzi in Abruzzo. Roba pagata dal comune. E vabbè non è male per ricominciare no? Non è male. Allora possiamo rimettere sul vecchio gruppo? Scordatelo. Sono vent'anni che ritratti una merda a quei quattro. Da quando non conti più un cazzo se ne sono scappati via come i ladri. Tutti è migrato da buon gusto. Non dassere a fangulo sti stronzi. Prendiamo quattro ragazzi. Quattro turnisti. Tre. La prendiamo tre. Va bene. E mo' che fai? Te ne vai? Ho da fare. Aspetta ci rilassiamo un po'. Ti offro un bel di tigre. Ho la mia Doni. Guarda che quella che tengo qui è buona. La mia è meglio. Ti chiamo domani. Ciao. Ciao.